Come se la guerra russo-ucraina fosse un film di spionaggio, nell'agosto del 2023 il pilota russo Maksim Kuzminov ha disertato, fuggendo dalla Russia e portandosi dietro un elicottero, pezzi di ricambio di aerei e importanti informazioni. Ma non è una storia letto fine, perché il 13 febbraio del 2024 in Spagna è stato trovato morto a causa di sei colpi d'arma da fuoco. Le autorità spagnole stanno investigando, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che dietro ci siano i servizi russi, che del resto non sarebbe la prima volta che fanno fuori dissidenti e oppositori persino in Europa. Kuzminov era entrato in contatto con l'intelligence ucraina e Budanov, che hanno organizzato l'operazione segreta Si Inizia, per passare il confine a bordo dell'elicottero pilotato insieme ad altri due membri dell'equipaggio, che inconsapevoli del piano non si sono arresi alle autorità ucraine e sono morti, opponendosi e fuggendo. Al pilota russo è stata offerta una ricompensa in denaro e la protezione per la sua famiglia, ma a quanto pare ciò non è bastato garantirgli salva la vita. E per saperne di più, link nei commenti o in descrizione.